gentili telespettatori buona giornata allora giorgia meloni e il governo salvini meloni berlusconi promettono promettono il blocco navale subito tante pubblicità che hanno fatto sui loro social blocco navale subito arrivano al potere e il blocco navale diventa blocco navale europeo non blocco navale italiano deve farlo l'europa sapendo che è decisamente impossibile che l'europa lo faccia i motivi sono le elezioni europee se in europa si arrabbiano la meloni non riesce più ad allearsi con il ppe alle an senza l'alleanza con il ppe non può vincere le elezioni e far diventare l'europa di centrodestra un obiettivo decisamente ambizioso importante che farebbe diventare l'italia al centro dell'europa lei la nuova merkel ma questo poi ha un costo il costo è quello di non fare il blocco navale molti molti ma moltissimi avevano seguito salvini che era arrivato al 34,5 proprio sull'onda del del suo lavoro al ministero degli interni ai tempi che lui bloccava le navi ong era una star in italia assolutamente e aveva portato il partito su al 35 per cento per il voto di opinione poi a un certo punto lui fa cadere il governo non gestisce più il ministero dell'interno e tutto viene sospeso lui scende all'8 per cento e la meloni comincia a salire promettendo il blocco navale subito 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 non in cinque subito fino adesso cinque mesi non ha mantenuto la promessa voi direte vabbè cinque mesi sono pochi ci sono cinque anni sì ma il blocco navale subito non ne parla più e ci sono le reazioni degli iscritti a questo canale di quelli che guardano questo canale magari non sono iscritti le reazioni sono di diverso tipo io che cosa ho detto praticamente ho riferito quello che sta succedendo il blocco navale che si può fare perché attenzione si può fare ci sono sia i soldi che i mezzi navali il blocco navale è un accordo tra il paese di parte dove dal delle partenze il paese di arrivo l'italia un accordo tra italia tunisia italia libia dove l'italia mette a disposizione mezzi navali che insieme a quelli di questi paesi fanno una fanno un blocco navale cioè impediscono le partenze ci vogliono tanti mezzi natale mezzi navali l'italia ne ha un'infinità devi corrompere questi governi li devi pagare perché loro prendono già soldi dai trafficanti per il silenzio se devono dare retta a te gli devi dare più soldi di quelli che danno i trafficanti mancano i soldi no quelli che dovresti dare non sono certo non ci mancano ne utilizziamo tantissimi per tante cose tanti bonus tante sciocchezze che i soldi non mancano quindi io vi riferisco faccio una fotografia della realtà vi dico il blocco navale lo si può fare il governo dalle promesse elettorali che poi ha vinto il giorno dopo che ha vinto non ne ha più parlato molti elettori la stanno prendendo in modo diverso io racconto questo sul canale da diverso tempo avete votato promessa principale quella del blocco navale per limitare le partenze gli arrivi promessa non mantenuta non sembrerebbe che all'orizzonte ci sia il mantenimento di questa promessa perché hanno altri obiettivi sulla bilancia da una parte c'è le elezioni europee diventare la nuova merkel d'europa e dall'altra parte c'è il costo il costo per diventare la nuova merkel d'europa vincendo le elezioni con il ppe e non far arrabbiare il ppe per non farlo arrabbiare non fai il blocco navale ti arrivano un milione di clandestini è un bel costo è un bel costo per gli italiani a mio avviso dovrebbero venire prima gli italiani che gli interessi di partito personali le ambizioni di gloria sapete che chi ha vuole sempre di più tu guadagni mille e vorresti duemila guadagni duemila vorresti quattromila guadagni quattromila vorresti ottomila all'infinito quando si prende il potere se ne vorrebbe sempre di più a parte questo le reazioni di di voi qual è c'è quello che dice hai ragione apprezzo che stai dicendo quello che succede che sei onesto non stai non fai il tifoso non fai il tifoso a priori a prescindere omettendo il discorso e parlando magari di carne sintetica e basta c'è grande successo ma perché non parli ecco quindi c'è una parte di voi che dice apprezzo la tua onestà stai dicendo quella stai raccontando quella che è la la come si dice la fotografia della realtà stai controllando stai raccontando quello che succede stai facendo una fotografia della realtà poi c'è quello che dice hai ragione ho votato per loro non li voto più a parte che tu lo stai ribadendo ma l'avevo visto anch'io che non solo quella promessa ma anche altre promesse elettorali non vengono mantenute quindi quella è il secondo la seconda tipologia di ascoltatore e poi c'è quello che dice attenzione la melonia intelligente se lo sta facendo c'è un motivo no non lo fa per interesse personale per lei l'interesse principale l'italia il problema è che si è accorta che non lo può fare perché costa troppo i soldi non ci sono oppure c'è chi dice ma no lei l'ha sempre detto che il blocco navale subito europeo io personalmente non l'ho mai sentito però sono anni che dice blocco navale ma non ho visto blocco navale europeo subito no ho visto blocco navale subito quindi c'è chi dice no 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 lei non è che non lo vuole fare non lo può fare non lo può fare perché l'europa glielo impedisce non è vero però c'è chi sostiene l'europa impedisce alla meloni di fare il blocco navale quindi anche volendo non lo può fare e poi c'è la reazione il quarto tipo è il tifoso della politica il classico che dà la colpa a me tu perché la meloni e due interviste che non ti concede ce l'hai con lei e la discrediti perché di qui perché di là perché di su perché di giù allora non mi ha concesso la prima intervista rispondendo a un mio amico un mio ex amico dicendogli ma chi è questo qua ma cosa vuole ecco la seconda volta che l'ho chiesta direttamente io senza nessun tramite non ha neanche risposto si vede che secondo lei un canale con 250 mila iscritti e 250 milioni di visualizzazioni il suo titolare quello che parla non non è degno neanche di una risposta va benissimo sapete quanti chiederanno un'intervista teleritmo tele tele cipalipa che chiedono l'intervista lei ha tutto il diritto di non rispondere se lei valuta che un canale con tutte quelle visualizzazioni non sia importante ai fini elettorali è una sua valutazione del suo team di esperti però il io non sono cioè non non è che cambio idea su un'area politico su un politico perché non mi ha concesso un'intervista l'anno scorso non mi ha concesso un'intervista ma fino a due mesi fa tre mesi fa io parlavo sempre benissimo della meloni perché realmente realmente avevo una fiducia molto alta oggi non è che critico la meloni perché non mi ha concesso la seconda intervista critico la meloni perché fa fatti alla mano non sta facendo quello per cui principalmente è stata votata quindi allora se io criticassi la meloni da un giorno all'altro improvvisamente senza motivo criticando delle cose che prima invece lo davo sarei uno sciocco dice ah guarda guarda non gli ha non ha non gli ha concesso l'intervista adesso la critica quando la lo dava e no e no cari amici io critico la meloni oggi perché non sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale e non perché non lo può fare perché non lo vuole fare è diverso molto diverso ecco come dire io non posso andare a mangiarmi una pizza no sei tu che non vuoi andare a mangiare la pizza non che non puoi non vuoi è diverso non posso che non voglio quindi cari amici cari tifosi di fratelli d'italia come dice uno di voi il tifoso non vuol sentire la verità la verità la verità gli dà fastidio e al posto di guardare la verità dalla colpa a chi racconta la verità è un classico il tifoso dalla colpa a chi dice le cose come stanno perché il tifoso vuole tifare è deluso ma vuole tifare si vuole illudere che il blocco navale sarà fatto lunedì prossimo no magari martedì prossimo lo farà fra 20 giorni perché sicuramente c'è una ragione non può finire così ma realmente come vi dicevo in un post sul canale non è colpa mia se la meloni non vuole fare più il blocco navale è un dato di fatto è assolutamente un dato di fatto poi magari domani ricambia di nuovo idea va a parlare con la libia con la tunisia dice me ne frego delle elezioni in europa me ne frego dell'europa di diventare la nuova merkel la situazione è insostenibile io devo lavorare per l'italia non per diventare la nuova merkel magari fra una settimana va direttamente lei a parlare in tunisia in albania e scusate in tunisia in libia e si mette d'accordo per un blocco navale a tutti i costi può farlo fino adesso che sto registrando questo video non c'è non si si presume che non ci sia nessuna intenzione di farlo però attenzione non è colpa mia se lei non lo vuole fare non dovete prendervela con me perché la vostra eroina la vostra super catwoman ecco la vostra la vostra super eroina del del dei fumetti non non fa quello per cui voi non lo fa perché perché non lo vuole fare perché le persone cambiano quando prendono il potere una cosa è tentare di prendere il potere voi gli servite una volta preso il potere voi siete stati un mezzo e poi continua o a nuove mire questo è quello che penso molto probabile al 99,9 per cento è la realtà a molti da fastidio molti la sanno molti l'hanno capita molti dicono sì professore la penso esattamente come lei una delusione mentre molti invece accusano me di fare il cattivone con la meloni perché non mi ha dato l'intervista ma lasciate perdere l'intervista lo vuole fare o non lo vuole fare il blocco navale no l'intervista lo vuole fare o non lo vuole fare il blocco navale cercate di essere delle persone serie e non dei sempliciotti arrivederci a tutti e grazie